Allora, eccoci insieme, andiamo a Soccorro, quindi vediamo di capire come si struttura questo viaggio. Possiamo partire con le immagini? Certo. Allora, chiediamo alla regia di partire con le immagini, vedere questo un po', quest'arcipelago, Revillaggi Gedo. Ecco qua, qui vediamo le fregate, gli uccelli marini, che è pieno naturalmente, e qui facciamo la prima sosta e andiamo a vedere le balene, le balene le andiamo a vedere nel Puerto Chal, Baia Magdalena, e il primo avvistamento è stato il 26 di gennaio, e ci portano fuori con queste barche, naturalmente tutti con i giubbini, perché qui ci si sporge, poi non sono barche grandissime, per cui anche sbilanciarsi è anche un attimo trovarsi in acqua. L'acqua è freschetta sempre, si va fuori, sono circa 20 minuti, mezz'ora di navigazione e poi le vediamo che vengono fuori. Ah, ma sono anche vicine a riva, tra l'altro. Sì, 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 ma poi quello che c'è, cercano quasi il contatto, vengono vicinissime, guardate dove eravamo con la barca e loro non andavano via assolutamente, guardate dove eravamo, e stanno proprio vicine. In questo viaggio qui abbiamo visto proprio il contatto di questi mammiferi, perché ricordiamoci, la balena non è un pesce, il delfino non è un pesce, sono dei mammiferi a sangue caldo, che proprio ci stavano vicini, lì non fa uto dell'ombra, quando è un dita arrivano i turi, tutto. Quindi non lo utilizzate come alimentazione? No, no, ecco il problema sono le navi cinesi e giapponesi nella parte di Socorro, in tutte le mete, diciamo che ci sono qui nel Pacifico, quella più sfruttata è l'isola del Coco, che vanno a fare mamma di pesci, che proprio sono, per esempio qui a Socorro, è protetto praticamente dall'UNESCO, è stato a Socorro dell'UNESCO, sì, ti lo vediamo, guardate come vanno vicine, guardate, un anno problemi. Cioè uno può anche accarezzarla? Sì, 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 e quello che è bello è che l'acqua è fredda e il loro corpo è caldo. Ah sì? Sì, proprio, veramente. Ma è perché è sangue caldo? È sangue caldo, sono mammiferi proprio, sì, sì, è sangue caldo sono, e proprio guardate, di fatti quando si sentono certe cose, come i delfini che fanno quelle mattanze, mi viene mal di pancia veramente a pensarci, sono cose assurde. E qui, in questo caso, loro che dimensioni hanno? Siamo sui 20 metri, sì, no, grandi, grandi, no, grandi, grandi proprio. Non abbiamo fatto le foto, quelle classiche che si vedono che viene fuori la cosa, perché in quel caso lì non fanno neanche la capovolta, c'è troppo poco bassofondato. Ma vanno lì per depositare, anzi per partorire? Per partorire, sì, sì, si trovano qui esattamente, stanno qui fino a giugno, stanno proprio stazionari qua. Ah, quindi sono proprio di casa là? Sì, 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 qui sono proprio i primi quattro mesi che le troviamo di casa e questa è la nostra barca. Quindi una parte, una zona desertica, vi imbarcate? Sì, ci imbarchiamo e questa, e di fatti vediamo che è molto alta come imbarcazione, perché ci sono le cabine che sono state fatte poi nella parte alta dell'imbarcazione. La partenza, vediamo che bello, che bello, che bello, il mare è calvissimo, che bene, bene che iniziamo. E qui vediamo la prima isola che troviamo è San Benedicto. Tutti felici. Sì, e questa è abbastanza grande come isola anche. E vediamo, ecco, ad esempio, le sule sono degli uccelli incredibili che ci si può avvicinare tranquillamente, non scappano, non hanno paura di noi, proprio veramente bello. E questo è uno scorcio veramente bello, come tramonti e come queste poche isole, queste tre isole che abbiamo fatto, che poi alla fine, a roca partida, è uno scoglio, ecco, adesso lo vediamo, è uno scoglio, questo qui non è, io non mi sento di definirlo un'isola, comunque. Però è la parte prospicente di un'isola. Ecco, e qui è dove abbiamo fatto le immersioni. E poi vediamo quando il mare era leggermente mosso, era così, ecco, questo è leggermente mosso, le onde arrivavano dove, io adesso sto facendo la ripresa, arrivavano fin qua sopra dove ero io. Quindi ci immaginiamo. Sì, effettivamente, è bella grande, però l'altezza, se il mare ha, questa mamma mia, sempre di più. E questo era l'andazzo, quindi? Questo era l'andazzo, esattamente. Ecco, adesso qui vediamo Soccorro, dove c'è il penitenziario, che abbiamo detto, e questa è la più grande come isola. Ci sono anche, sarebbero anche dei punti di attracco comodi, però assolutamente non si può andare a terra. E qui, comunque, Soccorro è quello che ha dato il nome, praticamente, all'arcipelago di Rebilla-Ghiglieldo. Ma il penitenziario è all'interno dell'isola? Sì, sì, il penitenziario è all'interno dell'isola. Qui vediamo i rifiuti, diciamo, alimentari, le cose dei peribili, venivano buttate in acqua. E quindi c'erano gli squali. E quindi arrivavano gli squali, ecco, tranquilli. Loro sentivano il motore della barca, arrivavano già perché sapevano benissimo, cioè assolutamente curavano le cose che si potevano buttare in acqua, erano solo e esclusivamente le biodegradabili che sarebbero state mangiate. Solo assolutamente quelle. Quindi stanno anche attenti? Sì, molto attenti a questo. Molto attenti, veramente. Ma qui sei già in acqua per fare queste riprese? No, ho messo la telecamera solo in acqua. Eravamo proprio nella plancetta di poppa e vedi qui c'era il carapace di un gamberetto. Sì, comunque ho visto una spedizione che abbiamo fatto proprio in mezzo agli squali, che quando ci si tuffa, il rumore del tuffo li fa andare via e poi tornano. Però sì, voglio dire, quando c'è la frenesia alimentare è meglio stare un attimo un po' più attenti, ecco, quello sì. Però belli animalietti, ecco, tanti, soprattutto tanti. Soprattutto tanti, perché questo è il fatto che uno non si immagina, altra ragione per la quale uno, cioè, difficile l'evasione da quell'isola, perché se ci sono tutti questi squali, c'è... Sì, ma diciamo che il subacqueo cerca lo squalo, non siamo solo noi, cioè, con quelli che ho parlato, veramente, cioè, vederlo in acqua, soprattutto lo squalo a martello è incredibile da vedere in acqua, è bellissimo. Ecco, qui partivamo con questi gommoni, due gruppi, impreghavamo in troppi, e facciamo le immersioni, qui si va proprio sotto costa completamente, perché si va giù in parete. Quindi voi partivate col gommone dall'imbarcazione, quindi va bene attrezzato. Esattamente, qui c'è appunto il segno che hanno messo... Patrimonio dell'UNESCO. Sì, patrimonio dell'UNESCO, esattamente, sì. Quindi è l'habitat marino, il fondali? Siamo in vulcanico, quindi è nero, è scuro, però l'acqua è limpidissima, veramente limpida, non c'è i colori, i colori non ci sono, ci sono pesci colorati, abbiamo pesci imperatore, c'è questa colorazione, magari l'ho vista solo qua, comunque c'è il colore, lo danno i pesci, non è che abbiamo i coralli che ci sono nei mari tropicali, questo e qui vediamo il pesce, dall'altra parte un pesce soldato che si è nascosto, e quindi ci sono, questo qui è un pesce scatola, eccolo qua. Caspita, che bello! Sì, questi qua erano più timorosi, poi abbiamo visto, e qui, ecco, la prima meta, diciamo, il nostro viaggio comportava le mante oceaniche. Quindi voi già sapevate che ci sarebbero state? Esattamente, esattamente. E guardate solo le remore che si attaccano a questa mante, io non ho mai visto le remore così grandi, adesso vediamo, sono cose incredibili, si fanno trasportare proprio dalle mante e prendono, gli tolgono anche i parassiti. Sì, che poi queste mante qui sono anche belle grandi, tra le altre cose. Eh, queste qui sì, queste raggiungono i 7 metri di larghezza, proprio sono veramente, ma veramente grandi, e quello che è bello, che proprio non hanno, guardate le remore che ha sopra, guardate le remore che ha sopra questa manta. Sì, ma questi pesci che sono sopra queste remore, quante sono anche le loro dimensioni notevoli? Sì, sì, beh, teniamo in proporzione che la larghezza totale dalla punta delle ali, diciamo, della manta è 7 metri, quindi, no, è un remore importante. E questo che è bello è proprio anche l'acqua limpida, nonostante ci sia una grande quantità di planton, avevamo una grande proprio visibilità e questo è bellissimo, questo è veramente bello. A che distanza si riusciva a vedere? Allora, come si va in acqua? Loro vengono sopra e partono dalle bolle, vanno proprio a girare sopra le bolle che noi buttiamo fuori e le prendono nella pancia e dopodiché, di fatto, bisogna stare attenti, a fine immersione, che si butta fuori il pedagno per indicare il punto che stiamo uscendo, bisogna stare attenti che non ci sia l'emante sopra che se glielo buttiamo addosso, perché certe volte le abbiamo sopra e neanche ci si accorge. Poi qui invece sapevamo che c'erano, perché è proprio un punto specifico di immersione con l'emante, quindi sapevamo che c'erano e siamo andati qui, che poi si passa da punti molto profondi, avvicinandosi sempre più allo scoglio, alla riva, alla parete, che è anche meno profondo. Vedete come prende le bolle, le prende proprio nella pancia. A me fa un'impressione perché ne abbiamo viste anche in precedenza in altri viaggi, ma credo che queste siano tra le più grandi. Queste sì, le oceani che sono le più grandi, indubbiamente sì. Quest'anno andate anche degli amici alle Maldive e le hanno viste anche alle Maldive. Sì, ma forse si è ripopolato perché magari tanto tempo... No, no, perché onestamente le mante sono quasi stanziali, quasi stanziali. È lo squallo balena che gira il mondo, è girovago e via di seguito e tutto, ma la manta diciamo che si ferma, per cui il fatto che siano arrivate questi oceani che facilmente sono arrivate dal Pacifico, che hanno fatto tutto il giro del mondo e sono andate le Maldive. Guardate i muri di pesce, questi sono branchi di carangidi, proprio veramente, sono dei muri di pesce che ci sono, e qui vediamo la quantità. E qui c'è, se solito, il pericolo dei pescherecci cinesi e giapponesi che vengono a fare man bassa. Ma arrivano fino a... Ah beh sì, perché prendono il giro contrario. Allora, loro hanno corrotto nell'isola del Coco e le persone, praticamente i ranger che sono nell'isola del Coco sono, diciamo, quelli che gli danno la caccia. Però quando i ranger comunicano a terra, questo è uno squalo, ad esempio, guardate le pinne che vedete dietro, è uno squalo molto particolare, proprio che vive nella sabbia, e se noi guardiamo il corpo vediamo le pinne dorsali, che sono uguali a quelle dello squalo, lo si identifica facilmente. È pericoloso? No, assolutamente, no, no, proprio, ecco qua, quindi invece ci passano i pinna bianchi, ma pinna bianca, poveretto, è solo che non è tanto timoroso, tanto, tanto timoroso, proprio non c'era problema, no, questo qui. No, questo, dicevo, all'isola del Coco, cosa fanno? Quando ricevono il messaggio a terra che i ranger hanno finito la benzina delle barche con cui pattugliano, c'è chi dagli uffici comunica alla società dei pescherecci cinesi e giapponesi che possono andare tranquillamente e li tirano a lungo di fargli avere la benzina all'isola, per cui gli danno una certa tranquillità che vanno a pescare e dopo scappano via. Sì, così rovinano tutti gli abiti, anche queste specie che poi sono anche protette tra le altre, in certe aree. Eccoli qua, queste abbiamo visto. E qui vediamo adesso gli squaletti pina bianca. Ma questi sono cuccioli, tra virgolette. No, beh, sono sempre, la misura è quella classica, un metro e mezzo, due metri, diciamo, ha sempre i dentini, qui mi ero avvicinato troppo e ho preso paura. Ti avvicinato troppo vuol dire quanto? Ma, 50 centimetri ero arrivato proprio, sì, sì, avevo il grande angolo su e quindi per prenderli tutti, ma guardate come si mettono proprio. Beh, ma giochi sul fatto che hai la telecamera, magari per allontanarli, perché sennò se questi simili... No, la telecamera può essere una forma di difesa da altri squali che gliela dai addosso, se proprio ti puntano così. Ma la telecamera non è che li disturba perché non ha nessun rumore. L'unico che sente le vibrazioni elettroniche, vede sempre lo squalo tigre. Lo squalo tigre, soprattutto i fari elettronici e via di seguito, è attirato da queste vibrazioni e questo suono particolare del... Quindi basta di dire che non sia uno squalo tigre, sennò viene anche attirato. Pensa a te. Allora Maurizio, che va un attimo solo, interrompiamo, andiamo alla pubblicità che poi ritorniamo con questi squaletti e non soltanto, tra poco.